Nel 2045 gli over 65 anni supereranno il 30% della popolazione. Questa proiezione, presentata da Anaste, l'Associazione Nazionale Strutture per la Terza Età, nel corso di un convegno a Bologna dal titolo Evoluzione Demografica e Sostenibilità Sociale, organizzato in collaborazione con Emil Banca, deve far riflettere le realtà che operano nel welfare e le istituzioni per pianificare interventi dedicati alle fasce più deboli. Alla tavola rotonda, alla quale hanno partecipato anche gli assessori regionali al welfare, Elisabetta Gualmini e alla Sanità Sergio Venturi, si è parlato del Fondo regionale per la non autosufficienza che andrebbe creato anche a livello nazionale dei nuovi criteri per l'accreditamento e della necessità di rivedere la legge 104. Noi abbiamo circa un indice di vecchiai di intorno al 175%, vuol dire 175 anziani ogni 100 giovani, dove per giovani tendiamo under 20 e abbiamo una previsione nel 2035 di un 30% di crescita degli over 80, soprattutto nell'ambito femminile, con un'evoluzione delle famiglie mononucleari intorno al 70%. Questo vuol dire che avremo fasce sempre più deboli, perché non ci sarà più l'appoggio della famiglia e quindi, soprattutto in ambito femminile, fragilità pesante dovuta alla solitudine. Numeri chiari che impongono di pensare sempre di più a servizi dedicati agli anziani e ai più deboli. Noi abbiamo fatto una proposta nel 2011 sulla istituzione del Fondo Unico per la non autosufficienza a livello nazionale. Questo fondo deve essere incrementato da un giorno di ferie rinunciato dai dipendenti pubblici, privati e autonomi. L'abbiamo mutuato dagli altri paesi europei, dalla Germania, che da 20 anni funziona in questo modo. Oltretutto la Germania fa una fiscalizzazione del reddito. Altra erogazione è la rivisitazione della legge 104. All'indennità di accompagnamento deve essere limitata. Oggi è universalistica, la prendono anche pensioni di un certo rispetto, limitata a 1.800 euro. Le fasce di erogazione devono essere 300 euro per chi prende 1.800 euro, 600 per le fasce intermedie e 1.200 per chi gode della pensione sociale di 500 euro. Grazie!